nella gioia e nel dolore e a difesa della nostra città finalmente ci siamo dopo tante puntate a marcord siamo in diretta il ricordo di enrico tuccillo soprattutto lo ricorderanno mario maglione e monica sarnelli con due grandissimi brani l'abbraccio alla famiglia cattuso per la perdita della sorella di rino cattuso il nostro grande mister grandi ospiti pavarese gennaro montuori pompa meo antonio capone che è guarito e massimo filardi lealtà competenza amicizia e passione 20 e 45 telea calcio napoli 24 e tifosi napoletani un abbraccio dal profondo del cuore forza napoli